Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Gian Paolo Arduini, le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Nasce la collaborazione tra l'Abruzzo e gli italiani a New York dopo la visita del Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio negli Stati Uniti. Conti della Regione, per Domenico Pettinari c'è poco da gioire, replica Camillo D'Alessandro. La massa debitoria non bloccherà il bilancio regionale, ma sarà spalmata in 20 anni senza aumenti delle tasse. Il Presidente della Commissione Sanità, Mario Olivieri, presenterà una risoluzione a sostegno degli specializzanti in pediatria dell'Università dell'Aquila. Sara Marcozzi sul progetto Edison per la discarica a Tremonti di Bussi. È solo una messa in sicurezza di emergenza. I consiglieri Gatti e Chiodi chiedono l'intervento della Regione sugli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo. Gasdotto sul Mona Foligno. Leandro Bracco chiede che la Regione ribadisca il suo no. Vediamo i servizi sugli altri avvenimenti. Il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha partecipato al convegno sul tema Regioni e città per il clima e la transizione energetica, riflettere sull'Europa, dialogo con i cittadini, organizzato dal Comitato europeo delle regioni e dal Dipartimento regionale per l'ambiente. L'evento, che si è svolto all'Aurum di Pescara, fa seguito al workshop sulla transizione energetica e climatica che si è tenuto l'11 ottobre scorso a Bruxelles, al quale il Presidente Di Pangrazio aveva partecipato in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sulle calamità naturali per la conferenza delle Assemblee regionali europee. Soprattutto per parlare di prevenzione di disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici. È un'attività dove è profondamente impegnata la Regione Abruzzo, ma soprattutto è impegnata a coordinare un gruppo di lavoro europeo per prevedere, per vedere, dopo un'attenta analisi fatta da un gruppo di lavoro, di esperti, di tecnici, di ricercatori, le migliori energie delle università della nostra Regione, insieme al Grand Sassos Science Institute, alla protezione civile, all'INGV, come affrontare sul punto di vista normativo per proporre alla comunità europea o dare dei suggerimenti su come dovrebbe essere indirizzata la normativa. Sono profondamente deluso perché una commissione di vigilanza voluta, indicata dal Presidente, come date e come orario rispetto a precedenti audizioni, non abbiamo potuto affrontare nulla degli argomenti che ci erano da affrontare se non il rinvio ad una riunione che ci dovrebbe essere il 26-27 ottobre, tecnica tra i tecnici della Regione, della ALS e questa società per arrivare ad un progetto definitivo. E' questo il commento di Mauro Febbo a conclusione della seduta della Commissione di Vigilanza in cui ha partecipato il Presidente Luciano D'Alfonso per relazionare sul progetto di finanza dell'ospedale di Chieti. Non abbiamo capito, ed era uno dei temi che doveva essere individuato, come si va a collocare questo progetto di finanza di questo ospedale rispetto al DEA di secondo livello che è stato annunciato da una delibera di giunta regionale ma che non è risulta dagli atti programmatori. È un convegno che nasce da un incontro con la signora Priore, che è una giovane donna, un'atleta, che è nata con il diabete, che sembrava non potesse fare niente e che invece ha sfidato proprio la malattia. E oggi è una che è diventata testimonial proprio di come si possa nascere con il diabete infantile ma poter fare lo sport anche a un certo livello e che ha scritto anche un libro. Per l'occasione saranno presenti oltre ovviamente l'assessore alla sanità e allo sport, il leggero Abruzzo Silvio Paolucci, avremo con noi il Presidente del CONI Italo Canaletti, la dottoressa Montani per parlarci del diabete, per parlarci delle cure, e parlarci di quello che si può e si deve fare a vantaggio di queste persone che nascono magari con una malattia che comunque è stabilizzabile e per cui si vive una vita praticamente normale. Ci sarò poi io e che coordinerò l'incontro e avremo con noi il coordinatore nazionale del partito ma soprattutto l'On. Maurizio Rubi che è sportivo, per questo l'abbiamo voluto con noi, uno sportivo è uno che sta promuovendo diverse leggi a favore dello sport e anche di coloro che hanno difficoltà nel fare lo sport.